Ok? Carissimi amici di Santina, siamo qui questa sera, questa notte, insieme con il suo Wei, Sister Chan e Man, dormiremo in questa casa. A pochi metri da qui c'era la nostra carissima Chi-Won che è morta il 21 di giugno del 2018, questa appunto ora. Vogliamo tutti portarvi qui questa notte per vivere qui in questa casa poverissima, piena di topi, piena di pericoli, ma di grande pace con queste due bellissime persone che si vogliono molto bene. Questa notte sarà una notte molto importante per noi di Fondazione Santina, chiediamo a tutti voi di poterci seguire e di essere vicini. A tutti, ciao!